Tu, ti sono voluti tre giorni per ritrovare tuo fratello E tua madre lo ha quasi schiacciato Sai quanto odia gli scarabèi stercorari Ma scommetto che l'hai fatto proprio per questo, eh? Fanne un'altra delle tue e ti trasformo io in un insetto Così vediamo se ti piace Una risorsa molto utile la tua guida pratica Mi fa piacere esservi inclusa